Val Trebbia, 11 aprile 2009. Ancora un freddo porco qua su, ancora inverno assolutamente. Voglio andare al Monte Lesina, all'osservatorio, ma mi sa che troppo piove. Non c'è quasi nessuno, almeno per me. Va bene. Non c'è quasi nessuno. Non c'è quasi nessuno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non lo so, ma mi sa che anche stavolta non ci arrivo da osservare. E' abbastanza chiaro che non si può. In mezzo alla neve. Siamo quasi a 1500 d'altezza. Altino. Cazzo. Meglio tornare indietro, mi sa. Guarda ancora un po' avanti. Guarda ancora un po' avanti. Gli fagliare indietro.